Due chili di cocaina sarebbero valsi per 30.000 dosi e un giro d'affari di un milione e mezzo di euro. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Chieti ieri pomeriggio all'uscita del casello autostradale di Francavilla. Agli arresti è finito Pasquale Milito, un pluri pregiudicato 56enne di origine calabrese, residente in Lombardia, e che viaggiava invece su un'auto in uso a gruppi di etnia rom della zona. Sì, era uno di quei controlli che noi svolgiamo quotidianamente con più pattuglie per tutto il territorio della provincia di Chieti. Durante questo controllo, interpolando tutte le informazioni acquisibili attraverso la banca dati delle forze di polizia, si è trovata un'anomalia sia nella presenza del soggetto sia anche nell'autovettura. Una delicata quanto tempestiva operazione di informazioni incrociate che ha fatto subito sospettare che quell'uomo avesse un ruolo nella criminalità. Precedenti penali e di mafia. Pregiudicato con reati anche di associazioni a delinquere di tipo mafioso, nonché di stupefacenti. Addosso, un involucro di cellufano a una mazzetta da 4.000 euro che l'uomo non ha saputo giustificare. Così, visto che dalla prima perquisizione dell'auto non era stato rinvenuto niente di illecito, è stato fatto intervenire un cane antidroga, Sissi. Un pastore tedesco di tre anni in forza al nostro nucleo cinofili di Chieti, il quale ha immediatamente fiutato la presenza di sostanza stupefacente e ci ha portato a fare approfondite ricerche all'interno dell'abitacolo del veicolo stesso, fino anche a smontarne le parti interne e ricercare nella carrozzeria l'intercapedine dove erano occultati i due chilogrammi di cocaina. I carabinieri non hanno ancora accertato il ruolo dell'arrestato, né quale fosse il mercato al quale era destinata la sostanza stupefacente. Ovviamente l'area destinata alla vendita non è possibile al momento circoscriverla, non conoscendo quali fossero i destinatari finali. È anche una zona di transito questa, quindi non è detto che fosse destinata al mercato locale, presumibilmente comunque all'area metropolitana Pescara-Chieti.